Un'altra azienda irpina a rischio, un'altra realtà produttiva e lavorativa rischia di chiudere i battenti. Si tratta della Meridionale Alimenti di Avellino, operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari conservati. A darne notizia attraverso una nota stampa è la Fai CISL. La problematica che potrebbe determinare la perdita del posto di lavoro per i 75 dipendenti dell'azienda sarebbe legata a difficoltà sorte per il rinnovo delle autorizzazioni, legate in particolare alla proroga per lo sversamento delle acque reflui dell'impianto vasi gestito dal lato e necessarie per lo svolgimento dell'attività industriale da parte degli organi istituzionali competenti. Il sindacato preoccupato ha subito coinvolto il prefetto di Avellino, il quale con grande solerzia ha attivato un tavolo di confronto per domani alle 10 con la presenza del presidente della provincia di Avellino, che con ogni probabilità sarà assente per impegni fuori provincia, del lato, del consorzio ASI, dell'Alto Calore e della direttore ARPAC. L'azienda in questione era stata ispezionata poche settimane fa dal 9. Su ordine della procura a termine del sopralluogo erano scattati sigili e prescrizioni in termini ambientali. La Fai CISL auspica che da tale incontro scaturisca una soluzione positiva che permetta la continuità dell'attività produttiva per l'azienda, scongiurando il licenziamento dei dipendenti. Questo è il caso della Meridionale Alimenti, la seconda fabbrica in ordine di tempo in poche settimane che si trova a dover affrontare la problematica legata al binomio ambiente lavoro. A precedere l'avvertenza della Meridionale Alimenti, quella della Nuovo Legno. Sette giorni fa, tavolo tecnico a Confindustria, dove sono stati confermati 55 esuberi alla fabbrica di Piano Dardine con il preditore Fantoni, deciso a chiudere alcune linee produttive che non basteranno certo alla sopravvivenza della fabbrica.